Un punto di partenza di un percorso di condivisione delle istanze e delle proposte di tutti i soggetti che si occupano a vario titolo di psichiatria. È l'obiettivo del convegno, Psichiatria Senz'Anima, restituire dignità e valore alle persone in una sanità che sta morendo di economia, presentato a Palazzo Lascaris. L'incontro è organizzato dalle associazioni di familiari e utenti, insieme agli operatori pubblici e privati.